Benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati in un nuovo episodio della serie Minecraft Signori, allora, intanto vi ringrazio sempre per tutto il supporto, per tutti i commenti, per tutti i like che lasciate a ogni video Signori, vi ricordo di iscrivervi al canale così cercheremo di raggiungere il più presto possibile i 2000 iscritti che è il nostro obiettivo principale Allora, cosa facciamo in questo video? Io l'altra volta ho fatto riprodurre le mucche, infatti dovrebbero esserci delle mucchine piccoline Infatti sono qui le nostre mucchine piccoline che sono tanto carine e coccolose, mi ha tirato una laggata terribile, non so perché Però io quasi quasi, signori, per non sapere leggere e scrivere, visto che abbiamo le mucchine piccoline, carine e coccolose Se però... zio, la devi ammazzare, è inutile che mi laghi in maniera terribile Ha laggato in maniera terribile, il gioco è animalista, signori Il gioco è animalista e non voleva che ammazzassero le mucche, ma le mucche le dobbiamo ammazzare Se no perché le stiamo allevando per nulla, ne lasciamo due grandi e due piccole Piano piano, signori, piano piano, piano piano, ci portiamo a casa anche un po' di carne finalmente Un po' di carne finalmente ce la possiamo portare a casa, che non è male come cosa Seminiamo questi semini, così, piano piano, ok, il grano continua a crescere Cosa facciamo nel mondo di oggi di Minecraft, signori, allora Mettiamo i semini al loro posto, ne abbiamo anche troppi Il grano lo mettiamo qui, che comunque può essere un'ottima fonte di pane Mettiamo anche la lana, sì, la lana, la pelle, la mettiamo qui Effettivamente facciamoci qualche altro panino, signori, che non è male Altri due, così quantomeno riusciamo un attimino a compensare la mancanza di cibo, di carne vera e propria Allora, no, questo non questo, ma questo qui, ok, così abbiamo due bellissimi panini che mettiamo qui Queste braciole le cuociamo, abbiamo cotto tutto il ferro che abbiamo raccolto nello scorso video, signori Io c'ho qualcosa, niente, metto uno di questi e va bene così Quindi, prima cosa importantissima, signori, andiamoci a fare un'armatura degna di questo nome Un'armatura, una bellissima spada, così siamo anche più sicuri nelle nostre spedizioni Quando ci rimangono 12 pezzi, riesco a farmi i pantaloni, va bene Direi che per il momento, signori, basta e avanza Diciamo che per il momento basta e avanza Uno, due e la spada la mettiamo qui Perfetto, ok Direi anche, ho fatto un'altra cassa, signori, per conservare le cose Direi anche di conservare questo piccone Che non si sa mai Meglio conservato che perso da qualche parte Abbiamo queste 10 bacche Che saranno, sta calando il sole? Sì, sì, intanto mangiamoci un panino così, nel dubbio Ok, risale un attimino la salute Allora, abbiamo preso le bacche Per prima cosa, andiamo a dormire Che ormai il sole sta calando E così ci mettiamo in sicurezza più totale Non abbiamo il resto degli strumenti E vabbè, dai, mi fa andare a dormire Guarda, sta tramontando il sole, mannaggia Sto fatto che devo aspettare per forza il preunto preciso In cui il sole raggiunge i gradi Oh, finalmente, dormiamo Abbiamo un'armatura, signori Finalmente siamo coperti Direi che finalmente essere coperti è una gran cosa Allora Abbiamo le bacche Abbiamo la terra Ok Non abbiamo una pala Mi fai una pala anche di pietra? Sì, va bene Perché dobbiamo recuperare un pochino di terra, signori Perché devo salire sotto casa Per posizione queste bacche Così le facciamo cascare Mi devi fare Sto vomitando Mi dovresti fare anche un'ascia Perché dobbiamo recuperare un po' di Un po' di legno, quello più scuro Che facciamo, diciamo, la strada Per raggiungere il portale, signori Perché oggi andremo a costruire anche il portale al nether Che non affronteremo oggi Quindi Non vi gasate troppo Perché non l'affronteremo oggi Il portale al nether, signori Con calma Lo affronteremo Ma non oggi Anche perché Troppe emozioni Già lì siamo stati in caverna Sono stati due episodi Barra tre Diciamo In caverna E non mi sembra il caso di dover Rinfilarci una nuova avventura esplorativa Nel prossimo video Nel prossimo video Con calma Esploreremo anche quella zona di lì Allora Allora Cosa voglio fare? Voglio intanto sistemare sto buco Che non lo sopporto Che non è per niente una cosa sbagliata Allora Qui facciamo un coso così Ok Così quanto meno Ho consumato la terra che avevo preso Sì Però va bene Non fa nulla Non fa nulla Metti un blocchetto d'acqua lì Ha finito di far così? No Sta continuando Ma porca miseria Metti un blocchetto d'acqua lì Recupera questo Metti un blocchetto d'acqua lì Recupera questo Blocchetto d'acqua lì Recupera questo Blocchetto d'acqua lì E' una cosa noiosissima Signale però Quanto meno ci leviamo Sto rumore d'acqua Che era insopportabile Ok E' più tranquillo Tutto a posto Tutto sistemato Sì Meno male Dammi un blocco d'acqua a me E andiamo E torniamo qui Allora Voglio fare scendere Tutti questi cosi colorati Da sotto la nostra base Signori Quindi Direi di piazzare Un bellissimo tronco qui Iniziamo a salire Come se non ci fossero domani Ok Dovremmo già essere A una buona altezza Dammi ste bacche E le andiamo a piazzare Che ne so Così Randomiche Così Così L'anno me lo farà piazzare Perché c'è Così L'anno me lo fa piazzare No L'anno me lo fa piazzare No Perché siamo distanti Ok L'anno me lo fa piazzare No Siamo ancora distanti Va bene Saliamo un altro poco Così ci avviciniamo di più Alla zona X L'anno me lo fa piazzare L'anno me lo fa piazzare Lì Ok Mi piace Mi piace L'anno me lo fa piazzare comunque L'anno me lo fa piazzare No Quindi spostiamoci un pochino Un pochino così Da questa parte Poi andremo a distruggere tutte le cose Non vi preoccupate Me ne piazzi una Lì No Di questa Mannaggia A te Chi non te lo dice pure Uno di questo Perfetto E uno qui Che mi fa luce Dai così Dai così Queste poi crescendo Signori Faranno luce E si abilirà tutto quanto A questa zona Almeno Lo si spera Si spera Leviamo questi blocchi di terra Che stiamo perdendo Perfetto Allunghiamoci di qua Con questi ultimi 4 blocchi Che ci restano 3 E 4 Perfetto E questi 5 Dove li possiamo piazzare Possiamo piazzare là Lo fai piazzare lì Dai Dai Fammi piazzare Mannaggia a te Me lo fa piazzare E io ci arrivo Non ho il minimo problema Abbiamo questi materiali I materiali ce li abbiamo Li sfruttiamo E quindi Chi se ne frega Dritto Come se non ci fossero domani Ora me lo fai piazzare Ah Ora me lo fai piazzare Con le buone e con le cattive Si ottiene qualsiasi cosa Signori Ok E io direi Che è carino No È carino così Potremmo metterne qualcuno Là Me ne restano gli ultimi 2 Facciamo un po' di parkour Yes Là sotto Come cazzo Ci arrivo io là sotto Il parkour così Questo non è più parkour Questo è proprio lanciarsi In maniera sbagliata Ora vediamo se però saltando Si saltando me lo fa mettere E l'ultimo E l'ultimo ce lo mangiamo signori L'ultimo ce lo teniamo per ricordo Dai va bene così L'ultimo ce lo teniamo per ricordo Questi raccrescendo Dovrebbero fare tutte le cose carine Con le bacche che dovrebbero arrivare Fino al suolo Che problemi hai Con le bacche che dovrebbero arrivare Fino al suolo Eh Sì Io però devo riuscire anche A risalire di qui Perfetto Rompiamo tutto E torniamo indietro Perché abbiamo un altro obiettivo Per questo video signori Abbiamo un altro obiettivo Quei blocchi Saranno lì Rome persi nel nulla Però va bene Dettagli Dettagli Scendiamo Tanto nella terra Non serve più di tanto signori Quindi recuperiamoci questa Che avevamo messo qui Che è caduta Della pulizia che abbiamo fatto prima Perfetto Qua c'è un altro blocchettino Ok Là c'è un altro blocchettino Che lo recuperiamo Perfetto Ok Questi poi piano piano Cresceranno E faranno Altra illuminazione Lì carina E coccolosa Ora Prima che cala la notte E quindi dovremo andare A dormire di nuovo Recuperiamo qualcuno Di questi alberoni Magari questo Ecco Questo di qua Che è messo proprio in mezzo È brutto Perché occupa spazio E noi Dobbiamo far spazio Quindi recuperiamo Questo alberone Non recupereremo I sapling Perché non Non abbiamo Tutto questo tempo Signori Quindi Evitiamo di cadere male Dai così Dai così Recupera Recupera Così possiamo fare All'islab Per fare Il percorso Del portale Che ci porterà Al portale nether Intanto faremo Semplicemente Il percorso E poi Il portale Lo costruiremo E cercando di non sbagliare Perché sennò Dovremmo andare a rompere Nuovamente l'ossidiana E non è una cosa Per nulla divertente E poi E poi E poi Però no Non lo attraverseremo È inutile che me lo continuate A chiedere nei commenti È inutile che me lo continuate A scrivere Non lo attraverseremo Occisi No No Troppe cose insieme Poi fanno solo Fanno solo cacciare Quindi dai così Scendiamo Abbiamo recuperato Il legno che ci serviva Anche per poter fare Altri sentieri diversi Sulla nostra casa Così quantomeno Da riuscire ad avere Diversità di colori Perché sennò Per ora abbiamo Semplicemente Il legno Quello normale Di quercia Ed è un peccato Ci sono altri legni No I sapling Non li recupereremo Mai nella vita Torniamo a casa Che mi sembra Una cosa buona e giusta Dai così Il sole ancora Giustamente abbiamo dormito prima Non sta tramontando il sole O sta tramontando Non da cazzo non è il sole signori Mi sono perso il sole Si sono rubati il sole E lassò per il sole Ok Va bene Prepariamoci il lavoro Prepariamoci il lavoro Allora Abbiamo questo legno di qua Questo non lo devi mettere di qua Questo non lo devi mettere di qua Ok Lo trasformiamo tutto Forse tutto tutto No direi che Uno stack Dai Uno stack mi sta bene Uno stack mi sta bene Dobbiamo fare Facciamone un bel po' Ce la teniamo però anche un bel po' Facciamone 10 Ok Facciamo 10 Sono 60 Perfetto Questi li metti qua E questo li metti qua La zappa La lascia ce l'abbiamo Signori E il nostro bellissimo portale del nether Lo faremo in questa direzione di qua Così lontano dalla base Così non avremo problemi di rumori strani Che non lo sopporto io Il rumore del portale del nether Quindi facciamo Allontaniamoci un pochetto Da questa zona di qua Se io metto Perfetto Ok Era proprio quello che volevo Era proprio quello che volevo Ok Una sorta di scala Fatta però in maniera un po' più grezza Ok Ora tu mi devi mettere questo così Perfetto Questo così Questo me lo puoi levare Ok Qua mi metti un altro blocchetto di questi E poi mi metti un altro blocco normale Così abbiamo l'altezza giusta Dai così Un blocco qui Me lo metti Sono troppo vicino Scusami Errore mio Errore mio E un blocco qua Perfetto signori Così abbiamo questa sorta di scala Che ci porta Verso la direzione del nether Ora 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 Potremmo utilizzare il legno questo di qua Eh Potremmo utilizzare questo legno di qua Sì Così abbiamo la scaletta di questo colore E poi il portale Che si basa su un altro colore Però lo faremo sempre tramite slab Non faremo Mai tramite Vabbè ma fondamentalmente cosa mi cambia? Non mi cambia nulla Recuperiamo un altro po' di legno Così è randomico Così abbiamo altro legno per fare la base E poi capiamo giusto dove mettere il portale Perché non lo metteremo subito così All'entrata Dobbiamo anche allargare questo Questo farm di alberi Magari con altri due Sulla mia destra Così da essere un pochino più larghi E poter formare Farmare ancora più legno Qua dobbiamo anche andare a chiudere Vabbè Troppe cose Troppe cose Ce le abbiamo qua delle cose Sì Allora scusami Fammi Ok Così diamo anche colore In questa zona di qua Chiudi Così Perfetto Ok Così mi piace di più Ok Allora 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 Ho detto allora Sì Perfetto Andiamo verso questa zona di qua Che sarà la nostra zona del portale Signori Abbiamo il portale del nether Tra poco Non ancora 64 blocchi Mi bastano Sì Più 17 Decidamente sì Allora Il portale sarà largo 2x2 Quindi io direi di fare 1x2 E 3x2 E dico che Penso vada Vada bene Come percorso Facciamo anche 4 Dai Ok Quindi qua poi ci sarà lo scalino Per il portale Quindi intanto Dobbiamo allargare tutto Allarga 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 Ok Quindi diciamo che Il portale lo mettiamo qui Ok Quindi qui saliranno I blocchi del portale Quindi comunque dobbiamo allargarlo di più È così Una mia Impressione Ma mi sa che qualcosa mi dice Che dobbiamo Allargarci ancora di più Rispetto a Quanto abbiamo fatto finora Ok Intanto Questo ce l'abbiamo Ma io le torce dove le ho lasciate? Ho finito le torce? Gravissima questa cosa No Non pensi ad aver finito le torce Signori È gravissima se ho finito le torce Le avrò lasciate in qualche cesta Quando gli ero svuotato le ceste praticamente Intanto metti una bellissima torcia lì Così non spona niente Qui Andiamo a dormire Prima che si creano patatrack terribili Recuperiamo l'ossidiana Lo lasciate qua le torce dei mini Sì Qua non ce ne stanno E qui Neanche qui Perfetto Ho finito le torce Signori Ottimo Siamo proprio messi male con il carbone Dovremmo fare il carbone quello con legno È l'unica soluzione che abbiamo Allora La terra ce l'ho Sì Allora Ritorniamo al nostro progetto Ritorniamo al nostro progetto Progetto Salendo di qua Qua ci sarà il portale Che si allargerà di qua Ok Lo facciamo altezza Altezza legno Non mi piace l'altezza legno No 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 Quindi mettiamo due blocchi qui Qua ci metteremo l'ossidiana Che poi salirà tutto a giro Ok Quindi io direi di allargarci un altro poco Decisamente sì Facciamo una sorta di Uno Due Tre Quattro Ok Di quanto mi sono allargato Di due Allora facciamo così Signori Facciamo Facciamo una sorta di Di proprio di Uno Due E tre Una sorta di Cosa carina E coccolosa Ok Dobbiamo semplicemente Allargarci di un altro Quindi così Uno Due E tre E poi Uno Sto facendo i calcoli Per ora Così istantaneamente Non è la cosa più facile Di questo mondo Lì dobbiamo mettercene un altro E qui dobbiamo mettercene un altro Perfetto E io direi di fare la stessa cosa di qui No Uno A meno uno Due Tre E quattro Va bene Direi che va bene così Direi che va bene come 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 base Come base di lavoro Va più che bene Quindi il nostro portale Lo andremo a mettere qui Con precisione Qua Sì Va bene Però mi sono dimenticato a portarmi l'ossidiana Signori Sono scemo Mi sono dimenticato a portarmi l'ossidiana Ci serve l'ossidiana E un acciarino Che forse dovrei avere No Ho le cesoie Non ho l'acciarino Ma abbiamo uno di selce Quando si dice le cose organizzate bene Allora un pezzo di ferro Un pezzo di selce E abbiamo l'acciarino E questa è tanta roba Recuperiamo l'ossidiana Me ne servono dieci pezzi Ok Dovodiché signori Poi questa zona di qui La avveliremo un attimino Poi andando Nel nether Magari prendendo proprio i blocchi Che ci servono Allora Fatemi fare il calcolo Questa è la linea centrale Ok E noi il blocco lo dobbiamo mettere Qui Qui Uno e due Ok Dammi la terra Dammi la terra Mettiamo un blocco di terra qui E facciamo Uno, due e tre Dammi la terra Ok Ok E facciamo La colpane Uno E due Ok Poi Scendiamo Ma si scendiamo Fracassiamoci le ginocchia E facciamo Uno E poi facciamo Uno, due, tre Leviamo Questi blocchi di terra Che sono brutti E non c'entrano niente Con il nostro design Ovviamente Non potremo mettere lava O cose O varie cose Perché siamo sul legno Signori Quindi Ci prende fuoco Tutta la base Portale Semplice Brutto Ma come tante cose Qui Nella nostra base Però va bene Signori Il momento È importantissimo Così è uno stichettino Sì Il momento è importantissimo Signori Accendiamo il portale Accendiamo il portale Ci prepariamo Per Un viaggio È partito Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Signori Abbiamo il portale Il nether Siamo pronti Signori In uno dei prossimi video Andremo A vedere Cosa ci riserva Il nether Certo Non siamo proprio attrezzati Della maniera più Precisa Però Però Vedremo Vedremo un attimino Cosa Cosa Possiamo inventarci Detto questo Signori Vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao